L'attraversamento in mezzo alla pineta con la neve Club Le Aquile Club di fuori strada C'è molta neve Ci sono i pini e è un paesaggio molto bello Questa è la due giorni, il 3-4 marzo 2018 Organizzata da questo giovane club Siamo partiti ieri pomeriggio Alle due e mezzo Siamo arrivati a Racino dopo aver fatto un giro panoramico di 70 km Attraversamenti di neve Abbiamo dormito lì al rifugio Abbiamo fatto lo rosto, tutte le cose Abbiamo dormito al rifugio di Racino Che il comune ci ha messo a disposizione E da oggi eccoci Oggi è il secondo giorno Ore 13.30 Stiamo attraversando questi tratti di montagna Con tanta neve, con i pini Ci sono questi giovani piloti di questo club Le Aquile Che guidano, che sfidano Sì, sì, stiamo a risvegliare Sfidano tutto Sfidano tutto Sfidano tutto Eccoci qui E continuiamo 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 Per girare Quando seguiamo In mezzo ai boschi In mezzo alla neve Da questo leone del lupo Da colpi Da colpi Da colpi Da colpi Da colpi Da colpi Tanta neve Tanta neve Queste macchine Anche molto potenti Però Passano con difficoltà E dopo Diversi tentativi Vediamo se riesce a provarsela Io sono certo Che ce la farà Ecco qui Ecco qui Ecco qui E' quasi andato E' quasi andato Quasi andato Perde qualche giro E' fatto E' una neve pesante E' una neve pesante E' bagnata Gelata sotto Ecco qui E' fatto E' fatto Ciao ragazzi Adesso passiamo Allora Ciao